Che il sindaco può cambiare alle prossime elezioni, siamo in un momento di cambiamento, cioè abbiamo oramai il cambiamento climatico è avvenuto e queste scelte, dove mettere le scorie nucleari, stiamo parlando di 40-60 mila anni prima che queste sostanze decadano. Ora, abbiamo noi proprio il diritto morale e filosofico di impegnarci per 40 mila anni di condannare chissà chi cavolo ci sarà. Il sindaco vive nel comune dove fa il sindaco, anche se cambia. 60 mila anni fa. Lui deve governare, però Finardi deve fare una decisione, che fa il sindaco? E ci vivo con la mia famiglia in quel comune, quindi anche quando non farò più il sindaco, vivrò ancora lì, ho una bambina di 6 anni e voglio farla vivere in sicurezza. Vogliamo moltiplicare questo problema per... Ma dove le mettiamo questi rifiuti radioattivi? Li spariamo sulla luna? Ma intanto appunto, abbiamo già il problema di questi, di Cerno. Io di quello sto parlando, io ho il problema dei rifiuti da gestire. Certo, ma questo va risolto e questo è chiaro, ma vogliamo creare altri siti, altre scorie, altri problemi. No, ma lui il sindaco non propone un'altra centrale. Quante, quante... Ma questo lo so anch'io, Pecoraro, non facciamo i furbettini. Io sto dicendo, qui stiamo prendendo decisioni che dureranno migliaia di anni. Perdonatemi, devo uscire da questo tema, per forza avevate pubblicità.